Sì! Finalmente! Ho raccolto tutti e sette cracker magici! Questo mondo sarà mio! Nagano! Musa! Oh! Sembra che tu sia arrivato tardi, Shimiko! Ho già raccolto tutto il potere che voglio! La maggior parte! Ho un bel 70% del potere! Boi! Potrebbe essere vero, ma hai mai pensato a questo? No, 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 no! Oh, donnazione! Come hai fatto a sconfiggermi così facilmente! No! E così i restanti sei cracker sparirono senza lasciare alcuna traccia! Se ti ribecco a fare cagate! Ti faccio la bua!